... EH! Mi pare di no! Och! Ma già adesso c'è... Ecco, quello che avete sentito Adesso la coppia di cazzi che scendono giù Ah no, non ce l'hanno fatta Ah 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 Mamma mia giocare Eh si ciao Giocare con la PSP a sto gioco qua O comunque Resident Evil è una cosa odiosa Perché essendo che la PSP non ha i tasti Non ha la chi ha la Come si chiama Non ce li ha più a belli attaccati Comunque belli morbidi no Come ce li ha la Playstation Quindi Devo fermarmi e ruotare Fermarmi e ruotare Fermarmi e ruotare Ma do Che palle Dai dai su che siamo così alla fine Dai dai Beh fa freddo Sentiamo un po' di fuoco Beh Ahia Ecco qua Boing 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 Altro che esci Hulk qua Allora qua ci serve solo una chiave Che l'è là L'ho detto più che altro è uno speedrun Non faccio vedere tutto il gioco Sì guarda questo è meglio che non parla Perché mi fa incazzare Io sono rosso Cazzo C'è un tizio Eh C'è un tizio C'è un tizio C'è un tizio WOOOOO WOOOOO Amico Poi ok Vieni qua, stronzo Ma Jill, lo sai che è di là? Non ce l'avrebbe mai fatta a scavalcare da sola, guarda Va bene dai, sì, via Mi ritrovo in tutti i ciasi, ecco la coppia di Guts Ehi oh no Tre addirittura, tutti insieme amorevolmente, un altro trio Allora Allora Unatto Ok Unatto 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 Adesso mi butto giù? Nienteante ok ecco qua speriamo che mi dà le opzioni e non me le nasconde sto scemo perchè io mi devo buttare giù io non mi ricordo se è su o giù dai da bravo dimmi se è su o giù ok ok faltati ciao io non sono votare scusate eh scusate bang 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 adesso incontro il tipo allora no è inutile andare di qua perchè ci serve aspetta fatemi pensare un attimo no beh tanto poi dobbiamo tornarci quindi si dai salvatore grande salvatore no e di giusto di qua no di qua di qua dopo andiamo di là perchè tanto dopo andare alla chiavetta per fare tutto il resto quindi è inutile tornare due volte perchè io sono lì a spararli sti defi minchia ok devo andare alla chiavetta il cd mi fa piacere si lo so che mi ami ok un disco mo no dove va ma vaffanculo vuole imitare wesker ma non ce la fa neanche un po' oh oh mamma ok con calma sarà però questa allora 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 o no poi questo qua dai aiuto che cado aiuto cado oh ah sto cadendo ah ok giusto di qui adesso questo qua che lo chiudo perchè lì devono rimanere due giusto ma dove vai questo invece è ehhh 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 questo non lo so ho sbagliato tutto secondo me perchè mi ricordavo che dovevo spegnere un robo lì ma forse ho fatto giusto dai ehhh suca questi sono enigmi per me questi sono enigmi per me ok adesso torniamo giù a fare quel robo dell'acqua hoci hoci quella era una triserva? era blu, gialla e rossa no blu verde e rossa vabbè andiamo tutto zitto va era tripoclore comunque oh ops perchè gli ho sparato quando devo andare di qua? non lo so fatto sta che voglio fare il finale dove arriva Barry per questo sono saltata giù quel tizio lì lo ammazzo in un modo più figo hey don't touch my breath oh 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 vabbè attenti risparmio ok 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 2 pizze zizioni pizze e nè e pronti allora la prima cosa è qua faccio subito